Si dice così Napoli-Roma 1-0 e io così non ci sto, così non ci sto, così non ci sto perché oggi la Roma non meritava di perdere, oggi la Roma non meritava di perdere, oggi il risultato più giusto era il pareggio, il pareggio e chi dice il contrario andasse a seguire il golf, il baseball, il cricket, il basket, non il calcio, non il calcio perché oggi la Roma non meritava di perdere. Poi l'abitro mi deve dire dove stanno i cartellini gialli per Lukaku, dove stanno i cartellini gialli per Lukaku? Ce li siamo dimenticati? Oppure il signor Antonio Conte adesso va a dire in conferenza stampa qualcosa, va a dire qualcosa sul piangino del cavolo, il piangino del cavolo Conte piange e cosa succede alla partita successiva? La Roma non dà nessun cartellino giallo per il Napoli, non dà nessun cartellino giallo per il Napoli e Lukaku, Lukaku doveva essere ammonito se non addirittura espulso e l'abitro cosa fa? Non dà niente, non dà niente, al primo fallo che fa la Roma subito il giallo, al primo fallo che fa la Roma subito il giallo. Vergogna, vergogna perché oggi la Roma non meritava di perdere, perché abbiamo fatto l'unico errore, porca puttana di Angeligno, e loro hanno segnato, se no il Napoli oggi 0-0. La Roma comunque ha fatto la sua partita, una buona partita, non dico una partita, una buona partita, mi è piaciuta come si è messa in campo la Roma e non meritavamo di perdere ragazzi, non meritavamo assolutamente di perdere. Poi nel secondo tempo comunque abbiamo messo dentro Abdul, Dal, che comunque devo dire, se Ranieri riesce a lavorare bene con questa squadra, per me possiamo fare comunque una buona stagione, perché oggi ho visto una bella Roma, anche la formazione mi è piaciuta, una buona stagione. La Roma ovviamente sarà difficile che vada in Champions, però concludere questa stagione in maniera comunque dignitosa e secondo me lo possiamo fare, perché oggi come è stata messa in campo la Roma mi è piaciuta. Il modulo che ha messo la Roma in campo mi è piaciuta, oggi la Roma mi è piaciuta, però sono più incavolato perché ragazzi, quando perdi così a me dà fastidio, perché l'avversario non ha meritato. E poi la cosa che mi è piaciuta è che poi adesso se la sentono calda, se la sentono calda, se la sentono calda per una vittoria che non meritavano, non meritava perché in Napoli non ha meritato. Quando meritano gli avversari sono il primo a dire, oh meritavano, alzo le mani e non dico nulla. Oggi in Napoli non meritava per un cavolo, poi se entrava quel colpo di testa di Dobbic, mamma mia, mamma mia se entrava quel colpo di testa di Dobbic. Perché il risultato più giusto ragazzi oggi era il pareggio, era il pareggio oggi, il pareggio, punto, punto. Per il resto raga, mi è piaciuta comunque oggi la Roma, una buona partita, la prima di Ranieri mi fa ben sperare per il futuro, si spera. Ma abbiamo altri due partiti difficili col Tottenham e con l'Atalanta, vedremo. Però sono troppo incazzato perché non meritavamo di perdere. Mannaggia la miseria, mannaggia la miseria, mannaggia D'Anghelinio del cavolo, mannaggia D'Anghelinio del cavolo. Che lì, porca miseria, poteva essere uno 0-0, un punto. Io non ci sto. L'abito mi deve dire dove stanno i cartellini gelli per Lukaku, non ci sto. E voglio sentire post partita che dice quel piangino di Conte, quel piangino di Conte. Io qua non ci sto, mi dispiace amici napoletani, però l'altra volta pianto dove sta, pianto, ma adesso dovete essere obiettivi. Dovete essere obiettivi, anche uno o due cartellini gialli a Lukaku. Dove stanno? Noi un fallo abbiamo fatto, subito giallo. Che vergogna.